Quando printi una copia doppia, pressi un bottone e la tua macchina printa due parti della pelle. Ma come succede? Come può la tua macchina printa due parti di una pelle? La prima parte del miracolo, il scannello di due parti del paper, succede perché la unità di scanner ha due scanners. Questo è il primo, usato per scannare l'interno della pelle. Questo è il secondo, usato per scannare l'interno della pelle. La pelle passa tra i due scanners che scannano l'avvento e l'avvento della pelle. Quando fai una copia di scanna, solo la prima unità è attivata, ma quando fai una copia doppia scanna, due unità di upper e lower scanner sono attivati. Ora la seconda parte del miracolo, la printazione di due parti della pelle. Il printer printa la prima parte della copia, come normalmente succede. Poi la pelle ritorna dentro del printer. Ma segue un'altra parte che reversa la pelle. La pelle ritorna della pelle non può essere printata e hai una copia doppia di copia.